Voilà! Alla vista un umile veterano del vaudeville, chiamato a fare le veci sia della vittima che del violento, dalle vicissitudini del fato. Questo viso non è vacuo vessillo di vanità, ma semplice vestigio della Vox Populi, ora vuota, ora vana. Tuttavia, questa visita alla vessazione passata acquista a vigore ed è votata alla vittoria sui vampiri virulenti che aprono al vizio garanti della violazione vessatrice e forace della volontà. L'unico verdetto è vendicarsi, vendetta. E diventa un voto non mai vano, poiché il suo valore e la sua veridicità vendicheranno un giorno coloro che sono vigili e virtuosi. In verità questa viscissuas verbale vira verso il verboso, quindi permettimi di aggiungere che è un grande onore per me conoscerti e che puoi chiamarmi V.